Nome, Alex, Lorenzo, professione, creativo, cuoco ristoratore, due aggettivi per definire croc and roll, amichevole e umano, croccante e effervescente, un invito alle follower di Siamo Tutte Vlogger per seguire croc and roll, ti sembrerà di stare come a casa tra amici quindi collegati e non avrai nessun tipo di barriera. Care follower, seguiteci perché da Naked Chef arriveremo a Naked Video Maker